Carissimi utenti, siamo qui con il presidente delle donne, presidente del Monte Corvino Pugliano. Davvero un grande campionato il vostro in seconda posizione, c'è davvero uno scontro al vertice. Come analizzare questo girone? Beh, prima di tutto, buongiorno e buon anno a tutti quanti voi. Analizzando questo girone, è un girone veramente eccezionale quest'anno. È la prima volta, forse, che in un campionato di terza categoria si trovano tante squadre al vertice. Ci sono 10-11 punti, differenza tra la prima e l'ultima. Quindi il campionato è tutto aperto, noi ce la giochiamo oggi perché ogni partita ha storia a sé. E per noi ogni partita è un campionato. Bene, ecco, come giudichi il comportamento dei vostri giocatori? Beh, i giocatori sono stati fino ad adesso molto esemplari. Sono ragazzi seri, ragazzi che si impegnano, ci tengono a questa partita in particolar modo, ma ci tengono al risultato finale del campionato. Qual è l'obiettivo della società? La società è, diciamo, per non rilluderci che vogliamo vincere il campionato, però ce la giochiamo domenica dopo domenica e il risultato lo vediamo alla fine. Come giudica il calcio a Quinebicentini? Il calcio a Quinebicentini, diciamo, va migliorato per alcune strutture, vanno migliorate. In sé per sé il calcio a Quinebicentini va, diciamo, abbastanza bene, anche se ci stavano prima, precedentemente, delle squadre che rappresentavano molto bene i Quinebicentini. Poi calcisticamente sono venute un po' meno queste società, però cerchiamo di portare il buon nome dei Quinebicentini a tutto il livello provinciale e regionale. Bene, ringraziamo il Presidente delle Donne su telesport.nei, ma grazie all'attenzione. Cari studenti, buongiorno. Qui collegati da Santa Tecla, il Monte Corvino Pugliano, davvero sta effettuando un grande campionato. In seconda posizione siamo qui con il Capitano Zoccoli, davvero un campionato entusiasmante che archisce notevolmente l'amalgama di squadra. Ecco, ce la potete fare a vincere questo campionato? Ma vincere sarà difficile. Noi lotteremo fino all'ultima giornata per poter raggiungere questo obiettivo. C'è da dire che l'obiettivo di partenza non è quello di vincere il campionato, ma è quello di disputare un campionato all'altezza, diciamo, rispetto a quello degli altri anni passati. I play-off penso siano abbordabili. Con questa squadra possiamo tranquillamente lottare per fare i play-off. Vincere è difficile, non impossibile. Certo, sognare non ce lo vede nessuno. Ecco, benissimo. È davvero una novità importante qui a Monte Corvino Pugliano. Ricordiamo che la parola Monte Corvino Pugliano non esiste nel paese di Monte Corvino Pugliano, ma esistono delle frazioni. Alla fine tutto l'agglomerato delle frazioni costituisce appunto il comune di Monte Corvino Pugliano. È importante in effetti questa denominazione, quindi Monte Corvino Pugliano, che raccoglie un po' tutti, insomma, vero? Sì, 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 è un comprensorio di varie frazioni. Precisamente adesso ci troviamo nella frazione di Santa Tegla, ma i giovani provengono da tutte le frazioni. Ci sono anche altre componenti di squadra che vengono dai paesi limitrofi, dai comuni limitrofi. E niente, cercheremo insieme di lottare fino alla fine per un obiettivo abbastanza importante. Ecco, giustamente il calcio qui a Monte Corvino Pugliano è sempre stato dinamico. Ricordiamo che comunque nei Picentini il calcio davvero è molto promettente. Ci sono diverse società, da Giffoni Secasale a Giffoni Vallepiana. Quest'anno c'è anche il derby tra le due città che mi pare che non ci sia mai stato, diciamo, di recente in questo caso. Comunque, in effetti, lei come analizza questo calcio nei Picentini? Ma diciamo che quest'anno ci sono state un sacco di società in più iscritte ai campionati, soprattutto in terza. Questo ha, diciamo, migliorato le qualità del campionato stesso. Ci sono molti più giovani che partecipano e quindi c'è un livello abbastanza alto. Il calcio è più vivo in Praga? Assolutamente, sì, assolutamente. Le varie agevolazioni che hanno fatto per poter far iscrivere le squadre sono sagge davvero per poter vivere di nuovo un grande calcio, anche dilettantistico. Ecco, invece, guardiamo un attimo a questo girone vostro. Siete in seconda posizione, è stato disputato davvero un bellissimo campionato. Come analizza questo girone? Un girone difficile, è un girone in cui tante compagini lottano per i play-off in primis e poi per poter vincere l'ambito campionato. Noi siamo tra quelle sette, otto squadre che, come ho detto prima, possiamo ambire tranquillamente i play-off visto questa buona fase iniziale e poi sognare verso la fine e vedere un attimino dove ci troviamo verso aprile. Ecco, risultato raggiunto grazie anche ad una struttura societaria molto valida che ha come presidente delle donne. Struttura societaria solida che è qui già da almeno tre anni persone squisite ma soprattutto capaci nel settore e che hanno sempre fatto calcio e quindi il meglio che potevamo augurarci per noi. Bene, ringraziamo il capitano Zoccoli Grazie per l'attenzione su telesport.it Grazie per l'attenzione